Spostando l'attenzione dalla comprensione degli altri all'intendimento di sé, cosa che ha già introdotto, ci sono ormai solide evidenze empiriche a supporto del ruolo cognitivo piuttosto che meramente esecutivo del sistema motorio. Ciò riguarderebbe anche ciò che intendiamo di noi stessi attraverso il nostro corpo, mentre ne facciamo esperienza come corpo in movimento o potenzialmente capace di una molteplicità di azioni. In che modo questo contribuisce all'indagine sul sé e alla comprensione della propria condizione in quanto condizione umana? Cosa media la relazione circolare tra soggettività motrice dell'azione e l'apprendimento che ne consegue? Sul primo punto, circa un anno fa con Vittorio Gallese abbiamo iniziato a ragionare su che cosa significa o su come dobbiamo interpretare una nozione che è abbastanza di moda nel dibattito tra i filosofi neuroscienziati o i neuroscienziati filosofi, cioè l'idea del cosiddetto sé corporeo. In realtà in inglese l'espressione è duplice perché può essere quella dell'embodied self o del bodily self, cioè una sorta di sé incarnato o sé corporeo. Non è il caso di entrare in particolare i tecnicismi, ma l'idea è che l'embodied self dà un po' l'immagine che tu hai un sé che può esistere anche indipendentemente dal corpo e lo trovi dentro nel corpo, mentre la nozione del bodily self è l'idea di come il corpo può essere motore di un'esperienza di sé. E cioè non semplicemente un'esperienza di sé che è anche una dimensione corporea, ma come il corpo può essere un sé, può fare esperienza di sé come sé. Da questo punto di vista l'idea dietro è un'idea che è largamente discussa nella letteratura prevalentemente filosofica degli ultimi anni ed è un po' l'idea del dire sì, esistono molti sensi di sé, molti modi in cui noi facciamo esperienza di noi stessi, non semplicemente esperienza di noi stessi e basta, ma di noi stessi come noi, cioè come dei sé. E tra questi molti modi è evidente, la prima cosa che posso fare è raccontare la mia storia, nel raccontare la mia storia, nel comunicare ad altri io che cosa sto raccontando, non sto raccontando semplicemente una serie di eventi, sto raccontando la storia che è mia, nel senso che io ne sono l'autore, in questo modo sono anche il narratore, ma ne sono l'autore, sono colui che ha fatto questa storia e colui che lungo questa storia continua ad identificarsi come lo stesso sé, ma è evidente che per avere un tipo di sé sì fatto, devo presupporre un'esperienza di me stesso di livello superiore, per esempio la capacità di ricordare, cioè la capacità di ricordare non semplicemente qualcosa che mi è accaduto, ma qualcosa che è accaduto a me, che sono lo stesso io che sta ricordando in questo momento, quindi la capacità in qualche modo di avere una relazione con me stesso e di identificarmi nel passato, stesso, ma per fare questo devo avere la capacità di avere un'esperienza di me stesso nel presente, che può essere poi calata nel passato o nel futuro, dove il presente non è l'istante, ma è quella dimensione di presenza che caratterizza ogni tipo di esperienza e in cui io faccio esperienza non soltanto di cose diverse da me, ma di cose che appaiono, si rivelano a me, a me che sono io e non qualcun altro. Ora il problema è che abbiamo pensato bene, ma se andiamo a ritrosi in questa specie di descrizione di diversi strati, l'idea del multistrato nel recerto nostro è un'idea molto diffusa, uno dei modi di cui noi facciamo esperienza di noi stessi è il corpo, il corpo è, ma il corpo non è semplicemente l'oggetto della mia esperienza, to la mia gamba, to il mio piede, to la mia mano, è più difficile dire to la mia bocca, to i miei occhi, dovrei trovarmi in uno specchio, ma la situazione diventa molto più complicata, perché molti sostengono che io ho un'esperienza di me, del mio corpo come mio soltanto nello specchio, il che presupporrebbe che qualunque modo in cui io faccio esperienza del mio corpo, per esempio muovendomi, non ha nessuna caratteristica del corpo come mio, ma in realtà io posso non avere il corpo come oggetto della mia esperienza, perché in realtà il corpo non è soltanto l'oggetto, ma è anche il soggetto dell'esperienza, compreso dell'esperienza di avere il corpo come oggetto, il corpo che si vede, non è che il corpo esce da sé e si vede di fronte, il corpo vede se stesso, ma c'è il corpo che vede, il corpo che vede riconosce l'altro come se stesso oggetto, ma riconosce anche quell'esperienza come la sua esperienza, il suo vedere, non è un vedere che capita da qualche parte. Allora ci siamo interrogati, ci siamo dati, ma non com'è che noi abbiamo questo corpo? E un po' l'idea è, molto spesso l'idea più ovvia è, vabbè, ma perché noi abbiamo un senso del corpo che è la propriocezione, è questo insieme di sistemi, di informazione che noi abbiamo e che ci dà costantemente, ci aggiorna sulla posizione del nostro corpo. C'è un'idea di propriocezione un po' diversa in un autore come Gibson, che ritiene che la propriocezione è un sistema generalizzato, cioè il fatto che nel momento in cui io faccio esperienza tutto il mondo si riferisce a me, la prospettiva, il flusso ottico dell'informazione rimanda a me e io sono il punto zero di tutta l'informazione. Poi c'è un sistema più complesso perché anche gli oggetti mi appaiono, ma mi chiamano anche all'azione, nel senso che gli oggetti mi appaiono raggiungibili, afferrabili, manipolabili, calciabili, mangiabili e quindi, e poi possiamo usabili, possiamo aumentare i livelli di astrazione generazione, ma appaiono a me, cioè quelle potenzialità che rivendicano sono le potenzialità del mio corpo. Se io non fossi in grado di afferrarli, l'oggetto non è afferrabile per me, è afferrabile per qualcun altro, se non fossi in grado di raggiungerli, non è raggiungibile e via dicendo. Allora riflettendo su questa idea ci siamo chiesti, ma perché non la prendiamo sul serio? Togliendola però dalla nozione gibsoniana e restituendo una nozione un po' più forte e ci siamo chiesti, a livello neurale noi sappiamo che è così, noi sappiamo che la vista di un oggetto è licita una risposta motoria, la risposta motoria non è una risposta generica, è una risposta sempre incorporata, l'oggetto non è licita un generico afferrare, è licita l'afferrare con le tue mani, è la rappresentazione motoria del tuo corpo come possibilità d'azione che viene chiamata. Allora dato che tradizionalmente si pensa che la rappresentazione del corpo a livello corticale siano somatosensoriali, cioè siano legate al sentire e noi abbiamo voluto dire, guardate bene che però anche il sistema motorio è organizzato in una molteplicità di rappresentazione del corpo, dove la rappresentazione della parte del corpo e della potenzialità dell'azione connessa sono tutt'una, lì il corpo è rappresentato come un potere d'azione, come una molteplicità di poteri d'azione. Allora ci siamo chiesti, ma non è questa la base primaria su cui noi facciamo esperienza del nostro corpo, cioè prima di fare esperienza del corpo come qualcosa che sento in movimento, non è l'esperienza del corpo come qualcosa che può muoversi. Concettualmente la possibilità di controllare e di avere la sensazione cinestetica del movimento come il mio corpo che si muove, è legata alla possibilità dell'avere il movimento, perché? Perché io posso sentire il mio corpo come potenzialmente mobili quando sto fermo. I deafferentati, cioè soggetti che non hanno, che non sono in grado di avere un controllo cinestetico, è proprio accettivo sul corpo, perché non hanno il feedback, feedback, cioè informazioni di ritorno, nota bene, non di partenza, non è che hanno, sono privi di un senso del corpo, hanno un senso del proprio sé corporeo, non hanno la capacità di controllare l'azione, ma di lanciarla sì. E cosa vuol dire lanciare l'azione? Vuol dire rappresentarsi qualcosa che posso fare, non che si può fare, che posso fare. Quella possibilità di fare caratterizza la prima nostra esperienza che abbiamo, non prima dal punto di vista temporale, prima dal punto di vista del livello primario. Se vado oltre questo livello io non trovo nessuna caratterizzazione del senso di sé. Ovviamente questa è una tesi discutibile, come tutte le tesi, noi abbiamo cercato di argomentarla ed è un argomento all'inizio, anzi ci piacerebbe molto essere sfidati su questo terreno. Il problema delle posizioni, delle teorie, come delle ipotesi o dell'euro scientifico o delle ipotesi filosofiche è essere presi sul serio, non essere sfidati, perché come diceva un grande matematico René Tom, il contrario del vero non è il falso, è l'insignificante e quindi il problema non è che le tue ipotesi siano false, è che le tue ipotesi siano insignificanti, cioè che in realtà non aiutino per nulla a spiegare. Allora è evidente che da un certo punto di vista ne facciamo anche una forzatura, però ha un grande vantaggio, perché? Perché se quello che noi diciamo ha una qualche plausibilità, noi abbiamo un'arma fortissima che è quella di dire, noi abbiamo quell'immediato passaggio per cui un senso minimo del self è già un senso minimo dell'altro, perché il meccanismo mirror che si basa esattamente su questa potenzialità dell'azione mi dice che appena io sono in grado di avere una minima rappresentazione delle mie possibilità motorie, sono in grado di entrare in contatto con gli altri. Le mie possibilità motorie di base sono il vocabolario che mi permettono di entrare in contatto con gli altri. Se io non so rappresentare nessuna possibilità motoria, se non ho nessuna capacità di questa rappresentazione, non ho il linguaggio base per entrare in contatto con gli altri. Non solo, ma anche chi si rapporta a me, se non vede nessuna risposta sulla base del suo vocabolario, sulla base delle sue potenzialità d'azione, non ha nessuna possibilità di entrare in contatto con me. La mamma che, il bambino, il neonato che risuona con la mamma nell'imitazione neonatale, è l'esempio più lampante. Un minimo di repertorio motorio, 3-4 movimenti boccali, orofacciali, consentono al bambino di utilizzare le sue potenzialità motorie nel momento in cui lui è in grado di controllare questi movimenti, di entrare in relazione con la mamma. In che senso? Nel senso che se la prima risposta è una risposta prettamente evocata da una risposta automatica, un mirroring automatico, la capacità del bambino di controllare la protusione delle labbra, la protusione della bocca e di rivolgerle alla mamma, cioè di rappresentare questi movimenti come suoi, come sue possibilità, sono le prime possibilità in cui lui si proietta, gli dà l'opportunità immediatamente di usare questo linguaggio per altri e nel momento in cui lui è in grado di usare questo, è in grado di menare lui la danza della limitazione neonatale. La mamma, lo sperimentatore è colui che inizia, ma il bambino nel momento in cui entra nel gioco delle limitazioni neonatale non è un risponditore semplicemente passivo, se tu interrompi crei ansia, perché ha trovato quel tuning, ha trovato quelle minime potenzialità motorie in cui misurare il sé e l'alto. Ecco, io credo che avere una minima teoria, una teoria del sé minimale che getta immediatamente il ponte a una teoria dell'alto minimale, che minimale non vuol dire che la teoria è minimale, è che è il minimo senso dell'alto che tu riesci a cedere, io credo che è un grande vantaggio per tutte le teorie del sé, perché se no il grande problema è quello di dire bene, ho l'esperienza del sé, poi ho l'esperienza dell'alto. No, io dico già a livello minimale l'esperienza del sé è l'esperienza dell'alto, senza confondere i due piani, senza che l'una si confonda nell'altra, ma ti dà lo strumento ineliminabile in cui io rappresento me stesso come quello che può fare quello e al tempo stesso su quelle possibilità misuro la differenza tra me e l'alto. L'alto risponde al mio atto, ma non è il mio atto, è diverso dal mio, condivide alcuni aspetti, ma non è il mio, io lo posso controllare agendo io, ma non è mio, tanto è vero che l'alto può non corrispondere, capire che l'alto può corrispondere e non può corrispondere, cioè ragionare in termini di mie potenzialità motori e di sue e fare l'esperienza di sé ed altro nello stesso tempo. Io credo che questo sia il primo elemento da cui noi dovremmo partire per fare una teoria del sé adeguata. Diversamente ci troviamo di fonte dei grandi esercizi straordinari, esercizi filosofici, che però non riescono a spiegare la cosa più elementare di tutti, e cioè perché noi dal momento in cui veniamo al mondo abbiamo un senso degli altri e abbiamo un senso di noi stessi, che non è quello di avere un corpo definito, questa secondo me è una stupidaggia, non è di avere delle barriere, ma di essere un insieme di possibilità d'azione, su cui noi non abbiamo dubbi, noi sappiamo poter cerzare, poter prendere, poter manovrare, possiamo fare tutte queste cose, noi possiamo, noi siamo quello che possiamo fare ed è attraverso quello che possiamo fare che facciamo esperienza di quello che sono gli altri, perché gli altri sono quello che possono fare. Grazie a tutti.